buongiorno sono raffaella e oggi vi presento il tutorial per realizzare il blazer in cotone viscosa per questo progetto vi occorreranno sei gomitoli di filato cotone viscosa di tre sfere filati nel colore 999 io ho scelto il nero nello store potrete trovare anche numerosi altri colori vi occorreranno inoltre un paio di ferri numero 3 un paio di ferri numero tre e mezzo due bottoni a scelta il nostro ago da lana con la cruna leggermente larga un uncinetto numero 3 e il nostro paio di forbici ed ora passiamo al tutorial allora due cose prima di cominciare il nostro progetto dunque il nostro progetto è realizzato a punto fantasia che è una sorta di piccola treccia falsa nel senso che non c'è nulla di intrecciato ma si forma appunto questa treccia accavallando un punto e poi nel ferro successivo aumentandolo con un gettato mettendola nuovo con un gettato dunque io vi presento una taglia 40 molto comoda semplicemente perché vedete la lavorazione si tende una volta indossata aderisce bene e si allarga perché appunto la treccia stringe leggermente e poi soprattutto è stretto da una culisse che realizzeremo appunto a coste 2-2 due diritti e due rovesci la parte più complessa di questo progetto non è tanto la realizzazione del dietro e dei due davanti ma i rever che poi noi andremo a realizzare visto che il progetto è realizzato con il colore nero io andrò a mostrarvi i rever e ovviamente il bordo di rifinitura dei nostri davanti con un colore in contrasto semplicemente per riuscire a mostrarvi bene come e dove raccogliere i punti e soprattutto dove inserire delle diminuzioni e dove andare poi a cucire i nostri davanti i nostri rever visto che sono lavorati in maniera staccata dal nostro capo per cui con un po' di pazienza sappiate che non è per mancanza di gusto che inserisco un colore in contrasto ma solo semplicemente per ovviamente venirvi incontro nella spiegazione perché capisco che il nero ovviamente bellissimo quanto volete ma oggettivamente difficile poi da inserire in un tutorial per mostrarvi tutti gli step che dovremo andare a realizzare per cui detto questo ora davvero passiamo alla lavorazione del nostro capo dunque come vi ho detto lavoreremo una 40 il punto che noi andremo a realizzare sarà un multiplo di 5 più 2 più 2 di vivagno di conseguenza noi non faremo altro se dobbiamo ovviamente cambiare la nostra taglia in una taglia più grande andremo a capire quante maglie dovremo usare e inserire ovviamente sui nostri punti grazie anche a questo campione che abbiamo già sviluppato sulla fascetta del filato perché voi per cui voi sapete che per 10 centimetri di larghezza vi occorrono 22 maglie e per l'altezza vi occorrono allora ci sono appunto in un quadrato adesso io ci vedo poco ma sono circa 27 righe se non vado errato comunque dietro sulla fascetta trovate il campione già sviluppato di conseguenza prendendo il vostro centimetro vi prendete la misura del dietro lo sviluppate ovviamente in centimetri per cui sapete che in 10 centimetri ci sono 22 maglie di conseguenza 22 22 22 22 arriverete alla vostra misura senza grosse complicazioni dopodiché certo ovviamente dovrete tenere presente che il nostro punto si sviluppa su 5 maglie più 2 perché ovviamente inizieremo con due rovesci e 3 che sono la nostra treccia e sono i cinque punti e i due sono riferiti al fatto che dobbiamo terminare con due rovesci il nostro lavoro più 2 di vivagno che vuol dire che io inizio con una maglia senza lavorarla e una maglia lavorata diritto alla fine allora questo è il mio metodo poi ce ne sono numerosissimi altri nel senso che chi lavora la prima maglia chi lavora la seconda scusate l'ultima maglia secondo della lavorazione io per convenzione parto con la prima maglia senza lavorarla e l'ultima maglia la lavoro a diritto poi capirete il perché di questa cosa ma adesso bando alle ciance e bando questa logorroica chiacchierata e partiamo con il montare le maglie sul dietro con i ferri numero 3 andiamo a montare 109 maglie per il dietro allora adesso calcoliamo lasciamo un po di filo e io la prima maglia da montare ovviamente sui nostri ferri lavoro un cappietto così faccio un giro sul nostro dito faccio passare il filo sotto estraggo tiro e io ho realizzato il mio primo punto lo faccio scivolare sul ferro tiro bene ed ora montiamo gli altri 108 punti come prendiamo il filo lo facciamo passare sotto il dito così poi con il medio andiamo prendere il filo che arriva dal gomitolo faccio una sorta di torsione entro da sotto con l'ago vado a prendere il filo che arriva dal gomitolo estraggo tiro e ho realizzato il mio primo punto nuovamente passo sotto con il filo che abbiamo verso di noi che è quello che abbiamo usato e dobbiamo usare per mettere i punti per cui lo allargo entro col pollice da sotto così e faccio una specie di cappio ok vado a prendere con l'indice o col meglio come siete più comode con l'indice il filo che arriva dal gomitolo faccio questa sorta di torsione entro da sotto così vado a prendere il filo carico sul nostro ferro e tiro ok montiamo 109 maglie e ci rivediamo dopo per vedere come proseguire bene montate le nostre maglie andremo a realizzare il bordo lavoreremo 12 ferri a legaccio per cui tutti i ferri lavorati a diritto allora io il primo punto come vi ho spiegato lo passo sul ferro di destra senza lavorarlo nel secondo vado a lavorare tutti i ferri a diritto allora prendo il nostro ferro di destra inserisco nel ferro di sinistra in questo caso da sotto così apro il punto carico il filo ed estraggo vediamo insieme nuovamente entro carico il filo e faccio cadere la maglia lavoro così 11 ferri ovvio che l'ultimo punto del nostro ferro verrà realizzato a diritto nel ferro successivo sempre tutti i punti a diritto come stiamo lavorando adesso il primo punto io lo passerò sul ferro di sinistra senza lavorarlo lo lavorerò a diritto dal secondo punto per cui ci vediamo una volta realizzati i nostri 12 ferri a legaccio per impostare la lavorazione abbiamo lavorato i 12 ferri del nostro bordo sempre a legaccio ed ora dobbiamo sostituire i ferri del numero 3 e inserire i ferri del numero 3 e mezzo e dal prossimo ferro andiamo a sviluppare la nostra lavorazione dunque il nostro punto fantasia si svolge su quattro ferri totali i primi due sono di preparazione mentre il terzo e il quarto avviene la vera e propria lavorazione ok adesso lavoriamo insieme i primi quattro ferri dopo visto che è terminato il quarto ferro dovremmo sempre riprendere dal primo impostiamo la lavorazione insieme e poi andate tranquillamente in autonomia fino a realizzare 44 ferri totali una volta terminati 44 ferri totali della lavorazione inseriremo la nostra curis realizzata con le coste 2 2 per cui le coste 2 2 sapete benissimo che sono due diritti e due rovesci alternati detto questo procediamo dunque iniziamo col primo ferro 3 e mezzo e andiamo ad impostare la lavorazione per cui il primo ferro io lo passo sul ferro di destra senza lavorarlo prendo il filo lo avvolgo vicino a me praticamente dal ferro faccio un mezzo giro e viene davanti al lavoro e lavoro due rovesci per cui punto il ferro da sotto avvolgo il filo esco da dietro e faccio cadere la prima maglia sempre un altro rovescio entro da sotto avvolgo il filo estraggo la maglia e faccio cadere il punto ora porto il filo dietro il nostro lavoro e lavoro tre maglia diritto per cui entro da questo lato portando il ferro dietro carico estraggo la maglia e faccio cadere e una seconda seconda maglia diritto entro portando la punta del ferro dietro carico il filo scusate e faccio cadere la maglia e ho lavorato la seconda terza maglia entro sempre da davanti verso dietro carico il filo estraggo il punto e faccio cadere e questa è la sequenza da ripetere sempre due rovesci e tre diritti termineremo il nostro ferro con due rovesci e una maglia di vivagno ora ripetiamo una volta ancora la sequenza dopodiché lavoreremo ci vedremo alla fine del ferro per vedere come terminare e lavorare poi il secondo sul rovescio del lavoro il secondo ferro sul rovescio del lavoro per cui ripetiamo filo verso di me per cui lo porto sul davanti del lavoro e vado a realizzare una maglia rovescia prendo il ferro di destra entro nella maglia e la faccio uscire avvolgo il filo estraggo il punto e faccio cadere la maglia sempre il secondo ferro entro da sotto così carico il filo estraggo la maglia e faccio cadere ora devo lavorare tra diritti per cui il mio filo quello che proviene ovviamente dal gomitolo lo porto sul retro del lavoro e lavoro tra diritti entro nel punto e porto il ferro ovviamente sul dietro avvolgo il filo estraggo l'asola e faccio cadere il punto seconda maglia diritto stessa cosa terza maglia diritto entro porto la punta del ferro sinistra sul del ferro destro scusate sul dietro avvolgo il filo estraggo la maglia e poi faccio cadere il tutto ok ripetete la sequenza e ci vediamo alla fine del nostro ferro per terminare insieme e ovviamente andare ad affrontare il secondo ferro siamo arrivati agli ultimi punti dove lavoriamo due rovesci gli ultimi due punti ok 1 e 2 e termino la riga sempre con la mia maglia di vivagno che io lavoro a diritto ora accantono i ferri del 3 e lavoro ovviamente con tutti e due i ferri del 3 e mezzo sul rovescio lavoreremo le maglie come si presentano per cui diritto su diritto e rovescio su rovescio vediamo insieme dunque la mia prima maglia io la lavoro a diritto scusate la lavoro senza lavorarla prendendola a diritto ora devo lavorare due diritti perciò entro con il mio ferro lo porto dietro carico il filo estraggo l'asola e faccio cadere ora mi trovo con un altro diritto entro carico il filo estraggo e faccio cadere ora dovrò lavorare tre rovesci porto il filo sul davanti del lavoro entro da sotto così carico il filo riesco con il ferro estraendo l'asola e faccio cadere il filo entro da sotto avvolgo estraggo e faccio cadere la maglia entro da sotto avvolgo estraggo e faccio cadere ora lavoriamo così per tutto il ferro ricordandovi sempre di lavorare l'ultima maglia diritto ci vediamo dopo per lavorare il terzo ferro terzo ferro nella nostra lavorazione per cui prendo il mio primo punto e lo passo senza lavorarlo sul ferro di destra filo sul davanti del lavoro e lavoro due rovesci 1 e 2 sempre filo dietro ed ora devo lavorare 3 maglia diritto per cui vado a lavorare la prima la seconda e la terza ora con il ferro di sinistra entro nella prima delle maglie che ho lavorato a diritto la faccio passare sul ferro e la cavallo alle due già lavorate andiamo avanti e ripetiamo nuovamente il procedimento per cui ho due rovesci lavoro 1 e 2 punti a rovescio porto il filo dietro ed ora devo lavorare 3 maglia diritto 1 2 e 3 col ferro di sinistra raggiungo la prima maglia a diritto la faccio passare sul ferro di rovescio e a cavallo la cavallo alle altre due maglie per cui faccio passare le due maglie attraverso questa che ho preso sul ferro di sinistra e poi la faccio cadere vediamo per l'ultima volta lavoro due rovesci 1 e 2 proseguo con tre diritti 1 2 e 3 ora con il ferro di rovescio con il ferro di sinistra vado a prendere la maglia la prendo così praticamente entro da davanti e esco sul dietro la faccio l'allargo leggermente se non ci riuscite perché magari avete lavorato un po' più stretto faccio passare le due maglie 1 e 2 attraverso questa che sto cavallando e la faccio cadere un'altra volta due rovesci 1 e 2 proseguo con tre diritti 1 2 e 3 col ferro di sinistra entro da dietro così ed esco sul davanti allargo leggermente la maglia e faccio passare attraverso questo cappietto che sto facendo che sto prendendo le due maglie che sono rimaste sul ferro libere e la faccio cadere proseguo così per tutta la riga per cui finirò il nostro ferro con due rovesci e una maglia lavorata diritto che è il nostro vivagno ci vediamo alla fine per poi lavorare il quarto giro quarto e ultimo appunto della nostra lavorazione a dopo eccoci qui lavoriamo l'ultima sequenza insieme lavoriamo tre diritti 1 2 e 3 col ferro di sinistra entro nella prima maglia lavorata diritto esco faccio passare le due maglie lavorate a diritto attraverso questa e la faccio cadere concludiamo il ferro con due rovesci 1 2 e l'ultima maglia di vivagno che lavora diritto ed ora lavoriamo la quarta e ultima riga o ferro come la volete chiamare del nostro punto fantasia perciò prendo sempre la mia maglia diritto ma non lavorata e la faccio passare sul ferro di destra proseguo con un diritto e un secondo diritto ora devo lavorare a rovescio perciò prendo il filo lo porto davanti al mio lavoro e lavoro la prima maglia a rovescio ora devo per forza di cose rimettere sui ferri il punto che io ho diminuito in precedenza come farò semplicemente lavoro un gettato tra le due maglie a rovescio del nostro gruppo come fare visto che ho il ferro verso scusate il filo verso di me cosa faccio lo avvolgo facendo fare un giro come vedete e ritorno ovviamente al punto di partenza con il mio filo rivediamo insieme prendo il filo lo avvolgo sul ferro e torno al punto di partenza e proseguo lavorando un rovescio porto il filo dietro al lavoro e lavoro due maglia diritto 1 e 2 ora sono sulla mia finta treccina e devo aumentare una maglia tra i due rovesci perciò riprendo il filo e lo porto verso di me ok lavoro una prima maglia a rovescio e la faccio cadere dal ferro ed ora devo mettere il gettato ovviamente tra i due rovesci prendo il filo lo avvolgo intorno al ferro lo porto verso di me e lavoro l'altra maglia a rovescio ok bene questo è il procedimento da fare per tutta la riga ci vediamo sull'ultima lavorazione che lavoreremo ancora insieme ovviamente e poi ci rivediamo per riprendere dal primo ferro del nostro punto fantasia ecco arrivati all'ultimo motivo per cui filo davanti a noi davanti al lavoro lavoro la prima maglia a rovescio lavoro il gettato ok per cui prendo il filo lo passo intorno al ferro e lo porto nuovamente verso di me lavoro a rovescio la seconda maglia riporto nuovamente il filo dietro lavoro la prima maglia a diritto la seconda a diritto e la maglia di vivagno la lavoro sempre a diritto ed ora riprendiamo dal primo ferro per cui la prima maglia di vivagno la faccio passare sul mio ferro di destra senza lavorarlo porto il filo davanti lavoro a rovescio la seconda maglia oramai è chiaro ed evidente che la lavorazione si ripete di conseguenza le maglie a rovescio sono perfettamente individuabili lavoro la seconda maglia a rovescio riporto il filo dietro ed ora dovrò lavorare quello che sono le mie tre maglie a diritto per cui prima maglia la lavoro tranquillamente a diritto la seconda che è il gettato lo lavorerò tranquillamente a diritto perciò vado sotto come vedete faccio uscire il mio ferro attraverso il gettato carico il filo estraggo e faccio cadere e proseguo con un diritto ora la sequenza da lavorare è questa né più né meno per cui sono quattro ferri che sviluppano il nostro punto e lavoreremo così per cui quattro ferri li abbiamo già lavorati questo il quinto fino a raggiungere il quarantaquattresimo ferro ok lavorato poi ci rivediamo insieme per inserire la lavorazione a coste 22 buon lavoro a dopo abbiamo terminato i 44 ferri con la lavorazione ed ora andiamo a lavorare 16 ferri a coste 22 per realizzare la culisse allora vediamo insieme come impostare il primo ferro dopo di che lavorerete tranquillamente da soli l'unica cosa che c'è tra virgolette di difficoltà è che dobbiamo aumentare una maglia durante l'esecuzione del primo ferro per cui adesso lo lavoreremo insieme e poi andate in autonomia tranquillamente visto che è semplicissima come lavorazione allora il primo ferro io lo passo sul ferro di destra senza lavorarlo ok e proseguiamo con due rovesci 1 e 2 proseguiamo con due diritti e ripetiamo la sequenza di due rovesci due diritti quando siamo più o meno circa un terzo del nostro ferro andremo ad aumentare la maglia che vi avevo accennato precedentemente allora adesso vediamo come realizzarla io intanto proseguo con i due diritti e i rovesci allora adesso dobbiamo realizzare due rovesci ho appena realizzato il diritto perciò devo fare l'aumento a questo punto filo solo un filo davanti al nostro lavoro con il ferro di destra andiamo a prendere la maglia del ferro sottostante allora come vedete qui c'è l'occhiello della maglia che abbiamo fatto cadere perché abbiamo realizzato la nuova per cui entro con il ferro di destra la faccio ruotare leggermente e con il ferro di sinistra passo attraverso e la faccio slittare appunto sul ferro di sinistra togliendo il ferro di destra ora su questa maglia aumentata io vado a lavorare una maglia crociata in questo caso è una maglia a rovescio generalmente noi per fare la maglia rovescio entriamo da sopra in questo caso visto che è crociata io entro con il ferro di destra da sotto vediamo se riesco a farla vedere meglio entro da sotto faccio il mio rovescio ed è la faccio cadere della maglia aumentata e lavoro a rovescio crociato anche la seconda maglia e io così ho aumentato tranquillamente la maglia di cui avevo necessità ed ora proseguo la sequenza sempre di due maglie diritte e due maglie rovescio proseguo così termino sempre il nostro ferro con una maglia di vivagno che lavoro a diritto e oltre a questo ferro proseguo per altri 15 per cui per un totale di 16 ferri a coste 2 2 ci vediamo più tardi per riprendere poi la lavorazione che abbiamo fatto nella parte sottostante abbiamo realizzato anche i 16 ferri a coste 2 2 come vedete ed ora terminato anche questo passaggio dobbiamo riprendere la lavorazione a punto fantasia per cui andremo a rimpostare nuovamente la lavorazione sul primo ferro ricordandoci sempre di diminuire il punto che abbiamo aumentato per realizzare la culisse per cui riprendiamo i nostri ferri e andiamo a rimpostare la lavorazione perciò faccio passare il primo punto sul ferro di destra e riprendo la lavorazione con due rovesci ovviamente ripartendo sempre dal primo ferro della lavorazione e riprendo con tre diritti nuovamente due rovesci e altri 3 diritti 1 2 3 2 rovesci e 3 diritti 1 2 3 più o meno in prossimità del nostro aumento circa andremo a diminuire una maglia io lo faccio sul rovescio e vado a prendere due maglie insieme per cui entro da sotto come per realizzare il rovescio nella prima maglia ed entro anche nella seconda per qui prendo due punti insieme carico il filo estraggo la nostra asola e faccio cadere entrambi i punti e questo è il nostro primo punto a rovescio proseguo con il secondo e riprendo i tre punti a diritto ora proseguo la lavorazione per un totale di 52 ferri una volta terminati i nostri 52 ferri ci rivediamo perché arriviamo a 40 centimetri di lavoro totali e andriamo a realizzare i nostri scalfi per l'arrotondamento della manica per cui lavoriamo con tranquillità 52 ferri sempre ovviamente contando dalla prima riga che stiamo lavorando con il punto fantasia e ci rivediamo lì per proseguire il lavoro insieme vedete abbiamo realizzato 52 ferri dal bordo per cui dal bordo a costo 2 2 una volta terminato andiamo a ricontare i nostri ferri ripartendo da uno ora siamo arrivati a realizzare praticamente lo scalfo per cui l'arrotondamento della manica dunque siccome io vi sto presentando una taglia 40 comoda quasi 42 se dovete realizzare una taglia superiore andrete a intrecciare ai lati anziché tre maglie come stiamo facendo noi due maglie in più e poi andrete sempre a diminuire per l'arrotondamento almeno due maglie in più per lato da quelle che ora andiamo a lavorare insieme ed ora vediamo come intrecciare le maglie all'inizio del ferro vi farò vedere la il procedimento sul davanti del lavoro poi ovviamente sul dietro sarà l'identica cosa andrete semplicemente a lavorare una maglia diversa nel senso che se sul davanti avete il rovescio sul dietro avete il diritto ora vediamo insieme come fare per cui alla riga 53 noi andremo a intrecciare tre maglie per lato come fare allora la prima maglia la andremo a portare sul ferro di destra senza lavorarla come facciamo di solito ora filo davanti al lavoro e andiamo a lavorare una maglia a rovescio riporto il filo dietro al lavoro con il ferro di sinistra prendo la prima maglia la cavallo alla seconda che ho lavorato faccio cadere dal ferro e io ho intrecciato la mia prima maglia seconda maglia come la trovo per cui se trovo rovescio lavoro a rovescio se trovo a diritto lavoro a diritto seconda maglia sempre a rovescio ovviamente col filo davanti a lavoro lavoro rovescio riporto il filo dietro prendo il ferro e a cavallo la prima maglia alla seconda e ne ho intrecciate due terza maglia questa volta la lavoro a diritto per cui faccio il mio punto a diritto lascio il filo dietro prendo la prima maglia e la cavallo alla seconda per cui faccio passare la maglia attraverso la maglia che vado ad accavallare ora io ho realizzato le mie tre intrecci e proseguo a lavorare normalmente sempre andando avanti con la nostra lavorazione perciò finiamo la riga e poi sulla riga a rovescio andremo ad intrecciare sempre le tre maglie ora lavoriamo questa riga e la successiva e poi ci rivediamo per inserire le diminuzioni all'interno della prima e dell'ultima maglia questo lo faremo per tre volte e sempre sul davanti del lavoro a dopo ok abbiamo terminato le nostre diminuzioni per cominciare a formare lo scalfo ora andremo ad inserire delle diminuzioni da lavorare dopo il primo punto e l'ultimo punto sempre sul davanti del lavoro per le diminuzioni alla nostra destra dovremo lavorare due maglie insieme a diritto o rovescio a secondo di come si presenta la lavorazione mentre per le diminuzioni a sinistra lavoreremo un accavallato semplice ora io incomincio il ferro vi faccio vedere come inserire la diminuzione poi porterò a termine la riga ci rivediamo per la diminuzione sulla sinistra e dopo questa prima diminuzione dovremmo ripeterne altre tre per cui un totale di quattro ok dopo le tre che abbiamo diminuito all'inizio ok per cui adesso ferro alla mano e faccio sempre passare sul ferro di destra la prima maglia senza lavorarla ora dovrò fare una diminuzione per cui andrò a prendere i primi due punti e li lavorerò insieme a diritto perché la lavorazione mi dice di lavorare due diritti per cui prendo con il ferro di destra entro in entrambe le prime maglie ok faccio uscire ovviamente la punta carico il filo estraggo l'asola e faccio cadere entrambe le mie due maglie ed ora proseguo normalmente la lavorazione ovviamente siamo alla terza riga della nostra lavorazione proseguo lavorando normalmente mi fermo alle ultime tre ci vediamo lì per vedere come realizzare l'altra diminuzione interna ok siamo arrivati alle ultime tre maglie eccoli qua e dobbiamo realizzare un accavallato per diminuire ovviamente la maglia sulla nostra sinistra all'interno dell'ultima maglia perciò prendo il ferro di destra faccio passare una maglia senza lavorarla ok la seconda la lavoro a diritto perché questo mi dice la lavorazione sotto un diritto prendo la maglia non lavorata con il ferro di sinistra e la cavallo a quella appena lavorata e poi termino il mio ferro ovviamente con una maglia diritto questa è la difficoltà che troverete man mano andando avanti a lavorare ovviamente la lavorazione diminuisce perché se effettuiamo delle diminuzioni anche la nostra finta trecina va a di conseguenza quando andrete a lavorare le prossime due maglie dovete prendere queste due insieme e non le lavorerete a diritto ma le lavorerete a rovescio perché ovviamente andate a diminuire questa maglia a diritto e la lavorazione prosegue sulle maglie a rovescio allora come detto in precedenza ripeterete queste diminuzioni per altre tre volte sempre sul davanti del lavoro e ci rivediamo una volta terminate queste diminuzioni dopo aver lavorato anche la riga a rovescio siamo alla riga 62 ci rivediamo alla riga 63 per vedere il rimanente della nostra lavorazione e per poi proseguire andando avanti ovviamente con lo scalfo perché dobbiamo raggiungere le spalle allora la misura più o meno di una 40 42 dallo scalfo alle spalle sono circa 17 18 centimetri voi calcolate un attimo sul 17 perché una volta indossata la maglia tende si tende e ruba sempre qualche millimetro e centimetro alla nostra lavorazione per cui calcolate anche che il cotone fiscosa è leggermente pieno per cui una volta che andremo a indossarla pesa tra virgolette non è un peso esagerato però pesa e andrà a allungarsi leggermente perciò non fate un giro manica esageratamente lungo resta il fatto che una volta appoggiata questa alla ascella potete misurarlo tranquillamente e vedere a che punto siete se è il caso di aggiungere un paio di ferri oppure sospendere come ho sospeso io per la 40 ovvio che se la taglia è superiore dovrete andare avanti come minimo di un centimetro anche lì una volta realizzato il centimetro in più che ci occorre non farete nient'altro che appoggiarvela dalla ascella fino alle spalle per controllare se il giro manica è corretto per cui ovviamente non esiste una regola completamente uguale per tutti perché ovviamente il fisico di ognuno è a sé di conseguenza voi provatevela e non sbagliate più ok allora ci rivediamo terminate le diminuzioni vediamo quante righe ancora io lavoro siamo arrivati a lavorare il ferro 62 finito ovviamente sul retro del nostro lavoro ora proseguiamo senza variazioni come vedete abbiamo realizzato lo scalfo se tiro si vede molto ok la rotondità come potete vedere proseguirò fino al ferro 92 per cui sul retro del nostro lavoro e poi ci rivediamo per intrecciare le maglie per formare le spalle dopo aver realizzato tutte le nostre righe i nostri ferri per ovviamente l'incavo della nostra manica dobbiamo andare ad intrecciare le maglie per formare le spalle intreccieremo per tre volte nove maglie all'inizio e ovviamente all'inizio del ferro sul dietro fino a lasciare le maglie centrali che ci serviranno per realizzare poi il collo praticamente andiamo a lasciare le maglie per lo scollo nuca ora andremo sempre a intrecciare le maglie nello stesso metodo che abbiamo usato per creare lo scalfo ok sempre accavallando la maglia alla successiva ora io vi mostro la prima sequenza poi ovviamente dall'altro lato il medesimo è il medesimo metodo di conseguenza ferri alla mano e andiamo avanti allora la prima maglia come abbiamo già detto io la passo senza lavorarla la seconda è una maglia a diritto e vado semplicemente a lavorare il diritto e poi accavallo la maglia alla seguente e faccio cadere dal ferro qui è sempre un diritto anche se c'è il gettato perché rispetto alla lavorazione a cavallo la prima maglia alla seconda e sono due per cui arriverò a diminuirne e intrecciarne il termine corretto è questo nove per lato allora nel caso aveste una misura superiore fate sempre in modo di prendere la misura della vostra spalla ovviamente e visto che abbiamo a disposizione il campione già fatto sulla fascetta della nostra del nostro filato qui andate a capire ovviamente in centimetri a quante maglie corrispondono nel senso se in 10 centimetri io ho 22 maglie e la mia spalla è 20 centimetri io avrò 44 maglie sto facendo un'ipotesi 44 maglie da dividere per 3 per cui 44 diviso 3 fa 9 18 27 per cui saranno di più per cui fate il calcolo e ovviamente lo fate sia sulla spalla destra che sulla spalla sinistra i punti che rimarranno che ovviamente non saranno gli stessi di quello che stiamo illustrando ma saranno ovviamente di più corrisponderanno allo scollo nuca che ci servirà per realizzare poi il collo bene adesso io vado avanti intreccio tutte le maglie sia sul davanti che sul dietro poi ci rivediamo per mostrarvi i punti rimanenti e chiuderli poi ovviamente intrecciandoli ci vediamo dopo ovvio che qui siamo alla seconda diminuzione scusate intreccio delle nostre spalle se siamo sul davanti ok eviteremo la lavorazione sugli ultimi nove punti perché poi altrimenti sull'altro lato avreste problemi nel inserire il nostro gettato tra le due maglie per cui contate bene le ultime nove le lavorate diritto su diritto e rovescio su rovescio perché poi verranno intrecciate appunto appena si inizia il secondo motivo di intreccio per cui nove le abbiamo intrecciate questa è la seconda parte delle nove come da questa parte per cui adesso finiamo questo ferro e poi sul rovescio intrecciamo nove maglie poi ancora una volta e poi abbiamo le maglie per il nostro scollo nuca sul ferro ci sono rimaste 41 maglie che sono pari circa a 16 centimetri per lo scollo nuca ecco finisce qua la nostra il nostro ferro ora intrecciamo anche queste poi lo lasciamo il nostro dietro è finito lo mettiamo in disparte e cominceremo a realizzare il nostro davanti destro vi ricordo che il nostro blazer è un doppio petto di conseguenza metterò sui punti per realizzare il nostro davanti almeno 5 6 centimetri in più perché ovviamente andrà a sormontare l'altro sinistro per cui ci vediamo dopo una volta terminato di intrecciare le maglie una volta terminata il nostro dietro ora devo pensare a quante maglie devo mettere sul nostro davanti se io vado a misurare il bordo di avvio del nostro blazer siamo all'incirca 40 centimetri ora forse non si vede bene però si è sposto ok siamo a 40 centimetri per cui per logica dovrei prendere le mie maglie e dividerle a metà ma a questo punto non avrei più un doppio petto avrei un monopetto perché ovviamente le due parti del doppio petto vanno leggermente a sovrapporsi di conseguenza ho bisogno di 7 8 centimetri in più da dover mettere ovviamente tramutate in maglia da dorme da dover mettere sui nostri ferri allora accantoniamo un attimo il dietro e prendiamo due conticini che io ho già fatto e ve li spiego tranquillamente allora per il dietro abbiamo 109 maglie teoricamente dovrei dividerle a metà e avrei 54 55 vado a prendere la misura più grande per cui io so che per 20 centimetri mi occorrono 55 maglie ora io a questi 55 voglio aggiungere 7 centimetri in più perciò cosa faccio prendo ovviamente la leggenda del nostro campione e mi dice che in 10 centimetri ci sono 22 maglie se io lo divido per 10 so che un centimetro corrisponde a 2,2 maglie se io prendo 2.2 che è il nostro risultato che è pari al centimetro e lo moltiplico per 7 che sono i centimetri di cui ho necessità abbiamo il risultato di 15,4 che corrispondono alle maglie in più che io devo aggiungere tralascio il decimale e vado a calcolarlo sulle nostre 55 che corrispondono ai 20 centimetri e i 15 che corrispondono ai 7 perciò 55 più 15 è uguale a 70 maglie che io avrò necessità per avviare il nostro davanti allora partiamo con il davanti destro perciò con i ferri numero 3 andremo a montare 70 maglie e lavoreremo il bordo a legaccio come fatto per il dietro per cui stesso numero di giri che corrispondono a 12 ferri per cui montiamo le maglie lavoriamo i 12 ferri a legaccio sempre con i ferri numero 3 poi ci rivediamo per impostare la lavorazione e ovviamente sostituire i ferri numero 3 con i ferri del 3 e mezzo a dopo terminato il nostro bordo a legaccio di 12 ferri sostituiremo i ferri numero 3 con il numero 3 e mezzo e andiamo ad impostare la nostra lavorazione come per il davanti scusate come per il dietro la prima maglia è di vivagno per cui la prendo a diritto e non la lavoro proseguirò con due rovesci 1 e 2 e 3 diritti e vado a ripetere ovviamente le quattro i quattro ferri della sequenza del nostro punto fantasia bene proseguo così oramai la lavorazione la conoscete l'unica cosa che dovete lavorare in questo ferro sarà una diminuzione e la lavoriamo insieme per cui adesso io ho lavorato i tre diritti devo procedere con i due rovesci e prenderò due insieme a rovescio prendendoli sempre da sotto getto il filo estrargo e faccio cadere entrambe le maglie allora procedo così con la lavorazione come abbiamo fatto per il dietro lavoreremo 44 ferri poi ci rivediamo perché dobbiamo ovviamente inserire la culisse ma nella culisse dobbiamo realizzare gli occhielli per i bottoni per cui lavorerate tranquillamente i 44 ferri di lavorazione di punto fantasia a finte treccine e poi ci rivediamo per vedere come proseguire insieme ora come per il dietro dobbiamo incominciare la nostra culisse a coste 2 e 2 durante l'esecuzione del primo ferro delle coste 2 e 2 dovremo aumentare una maglia per cui impostiamo il lavoro con una maglia di vivagno che passo sul mio ferro di destra senza lavorarla procedo con due rovesci 1 e 2 ed ora proseguo con due diritti 1 e 2 lavoro così fino più o meno al centro sempre alternando due maglie diritti e due maglie rovescio adesso quando siamo un pochino verso il centro aumenteremo la maglia ecco diciamo qua io di solito aumento come vi ho detto per il dietro dove ho la maglia rovescio perciò filo davanti ai nostri ferri per cui verso di noi entro nella maglia sottostante del ferro precedente ovviamente con il ferro di destra apro l'asola ruoto leggermente e con il ferro di sinistra entro da sotto e la carico sul ferro sul ferro di sinistra ora vado a lavorare due rovesci per cui non lo prendo dal davanti ma tengo fermo con l'unghia il dito la nostra maglia e vado a prenderlo da sotto e lavoro un rovescio lo stesso vale per l'altra maglia per cui entro da sotto carico il filo e faccio scendere la nostra maglia ok proseguo così lascio una maglia di vivagno e lavoro un totale di 6 ferri al settimo ferro ci rivediamo perché dobbiamo ovviamente inserire gli occhielli che lavoreremo insieme ok allora tra 6 ferri ci rivediamo realizzati i nostri 6 ferri ora dobbiamo lavorare gli occhielli del nostro blazer come faremo ok cominciamo con sempre una maglia di vivagno per cui non lavorate presa a diritto e lavoro due rovesci 1 e 2 ed ora andremo a realizzare un occhiello di tre maglie perciò lavoreremo la prima maglia a diritto la seconda a diritto prendiamo la prima maglia e la cavalliamo alla successiva e la facciamo cadere dal ferro e ho intrecciato la prima maglia lavoro a rovescio la seconda prendo la maglia e la cavallo e ho intrecciato la seconda maglia un altro rovescio prendo la maglia e la cavallo e ho formato il primo foro del nostro occhiello ora procediamo lavorando 25 maglia ok alla 26esima dovremo intrecciare nuovamente adesso io lavoro le 25 poi mi rivedo con voi per realizzare l'altro occhiello e terminare la riga ecco qui realizzati 25 ferri procedo nuovamente a creare il secondo occhiello lavoro una maglia a diritto e una maglia a rovescio prendo la prima maglia e la cavallo nuovamente un rovescio prendo la seconda maglia e la cavallo terza maglia la cavallo e ho creato il mio secondo occhiello 1 e 2 ora procedo a terminare la riga e poi lavoreremo insieme la riga sul rovescio del lavoro dove andremo ad avviare a nuovo le tre maglie che abbiamo intrecciato per creare ovviamente il foro per cui finisco ci vediamo sull'altro lato e vediamo come lavorare insieme le maglie da avviare a nuovo bene sono sul rovescio del lavoro e sono arrivata al punto dove devo avviare a nuovo le tre maglie che ho intrecciato nel giro precedente allora aspettate che io disfo questa maglia e lavoro con voi allora devo lavorare ovviamente una maglia a rovescio non la faccio cadere dal ferro porto il mio filo dietro entro nuovamente nella maglia la prendo da sotto carico il filo ed estraggo attenzione non faccio ancora cadere la nostra maglia dal ferro di sinistra e come vedete qui però ho aumentato e messo sul ferro una delle tre maglie che ho intrecciato precedentemente ora filo davanti a me e vado a lavorare a rovescio prendendo da sotto la seconda maglia allora in questo ferro non ha molta importanza che siano tutti e due diritti o tutte e due rovesci perché poi le sistemeremo nel giro successivo l'importante è rimetterle sul ferro e ho rimesso la seconda maglia ora da sotto esco carico ed estraggo e ho messo sul ferro la terza maglia ora raggiungo le maglie che ho sul ferro di sinistra e procedo a lavorarle secondo la lavorazione che trovo sotto arrivo fino all'altro all'altra asola ok e lavoreremo insieme nuovamente giusto per avere un ripasso di come dobbiamo lavorare dopo dopo nel ferro successivo ovviamente andremo ad estendere la lavorazione a coste due due su tutte le maglie pareggiando ovviamente quelle che sono le impostazioni allora entro e lavoro una maglia diritto ok adesso devo aumentarne altre tre avviarne a nuovo altre tre filo davanti entro da sotto carico estraggo e non faccio cadere porto il filo dietro entro così da sotto carico il filo estraggo e non faccio cadere porto il filo davanti entro da sotto carico il filo estraggo e io ho avviato a nuovo le mie tre maglie ora procedo e termino le maglie del ferro l'ultima la lavoro a diritto ora devo andare avanti a realizzare gli otto ferri che mancano per terminare la nostra culissa per cui lavoriamo gli otto ferri poi ci rivediamo per impostare la lavorazione e dopo i primi due ferri che andremo a realizzare incomincieremo a inserire le diminuzioni dal lato destro per creare lo scollo ci vediamo dopo ecco qua abbiamo terminato anche i nostri 16 ferri a coste due due ora dobbiamo reimpostare nuovamente la nostra il nostro punto fantasia le nostre treccine finte e andiamo nuovamente a impostare appunto la lavorazione sul ferro sul primo ferro allora ricordatevi di diminuire una maglia sempre verso il centro ora impostiamo la lavorazione insieme sempre una maglia di vivagno che non lavoro e porto sul ferro di destra senza lavorarla e vado a riprendere i miei quattro ferri di lavorazione per cui due rovesci e tre diritti una due e tre due rovesci e tre diritti e ovviamente lavoriamo così per tutto il ferro ricordatevi come vi ripeto la nostra diminuzione lavoreremo il primo ferro e il secondo dopodiché ci rivediamo nuovamente per cominciare a impostare le diminuzioni e vi consiglio di procurarvi carta e penna semplicemente per andare a ricordarvi il numero e ogni quanti ferri dovremo diminuire perché il primo pezzo sarà piuttosto semplice poi arriveremo dallo scalfo in su che sarà un pochino più complesso perciò carta e penna e così vi annotate le nostre diminuzioni man mano che andiamo a realizzarle allora io lavoro questo ferro il successivo poi ci vediamo e cominciamo a diminuire ecco qua dunque lavorate i due ferri della nostra lavorazione a treccine dobbiamo cominciare a inserire dei delle diminuzioni all'interno della prima maglia per cui lavorerò la prima maglia senza lavorarla ovviamente la passo sul ferro di destra e dopo devo lavorare le prime due maglie insieme allora per facilitare leggermente poi le operazioni che andremo successivamente a realizzare che sono quelle appunto di rifinire i bordi io prendo una piccola spilletta un marker come la volete chiamare voi cosa avete a disposizione tra l'altro e lo metto qui proprio nella prima riga così che io so come poi regolarmi quando andrò a realizzare questo bordo e poi ovviamente per realizzare il rever che andremo a lavorare in maniera staccata per cui il bordo lo lavoreremo proprio riprendendo le maglie mentre il rever e il collo saranno staccati da cucire allora riprendendo comunque il discorso sulle diminuzioni andremo a lavorare così dunque come vi ho detto prendetevi carta e penna perché queste prime saranno semplici nel senso che lavoreremo la diminuzione sul ferro sul diritto del lavoro sul ferro a diritto mentre sul rovescio lo lavoreremo come le maglie si presentano ok e queste diminuzioni che noi andremo a realizzare le effettueremo per 16 volte per cui da questa cominciate a contarne 16 come farò per cui prendo la mia maglia la passo a diritto e dovrò lavorare queste due maglie insieme visto che sono a rovescio vado a prenderle insieme da sotto e le lavoro a rovescio e questa è la mia prima diminuzione dopodiché vado semplicemente a ripetere quello che è la mia lavorazione per cui questo è il terzo ferro lavoro le mie tre maglie a diritto prendo la prima maglia delle maglie a diritto la cavallo e realizzo la mia prima treccina per cui questa è la prima diminuzione dovremmo farne altre 15 a questo punto ci vediamo al ferro 32 che è il ferro a rovescio l'ultimo che dovremo realizzare dopodiché vedremo nuovamente come inserire le diminuzioni ma le faremo ad intervalli più lunghi per cui ora lavorate queste 16 diminuzioni totali partendo dalla prima che abbiamo fatto insieme e ci vediamo al ferro 32 ecco qua abbiamo lavorato in totale 34 ferri i primi due erano di preparazione 16 diminuzioni sul davanti e ovviamente 16 ferri sul retro ora dovremo lavorare quattro ferri senza nessuna variazione per cui con le maglie che abbiamo sul ferro e al quinto dovremo inserire la diminuzione questo lo ripetiamo per tre volte per cui iniziamo con quattro ferri senza variazioni e una diminuzione e lo ripetiamo altre due volte per ci rivediamo al ferro numero 50 per cui prendete nota siamo al ferro 34 ci vediamo al ferro 50 che ovviamente sul nostro rovescio ecco qua siamo arrivati al ferro 50 dunque da adesso in avanti lavoreremo insieme e praticamente ogni due righe per cui con voi lavoro la parte del davanti e poi in autonomia andrete sul dietro ma siccome si accavallano le diminuzioni per lo scollo e poi anche per lo scalfo allora ho deciso di piano piano sarà un pochino noioso il tutorial abbiate pazienza ma vi porto piano piano allo scalfo e poi ovviamente fino alle spalle perciò adesso siamo arrivati alla riga 51 ed ora inseriremo ancora una diminuzione per lo scollo per cui la riga 51 inseriamo lo scollo la riga 52 a lavoriamo come si presenta e poi ci rivediamo per vedere le prossime righe dove dovremo inserire lo scollo siamo arrivati al ferro 53 in questo caso sul davanti non inseriremo nessun nessuna diminuzione ma sulla riga rovescio andremo a intrecciare i primi tre punti che formeranno lo scollo per cui su questa riga del davanti nessuna variazione andate avanti a lavorare la lavorazione secondo il nostro schema e sul dietro quando lavorerete intreccerete le prime tre maglie ok e questa è la riga 54 ci rivediamo appena terminato questo step per il ferro 55 attenzione ancora nessuna diminuzione per lo scollo ma andremo a lavorare una diminuzione all'interno dell'ultima maglia e come faremo lavoreremo un accavallato semplice come abbiamo già visto in precedenza per cui sapete vi ricordate che per la parte sinistra dello scalfo lavoreremo sempre un accavallato semplice ovvio che questo non ve l'ho detto prima ma mi sembra abbastanza normalissimo che sulle maglie ovviamente che andremo a diminuire su ciò che rimane o andrete a proseguire la lavorazione oppure se rimangono due maglie sulla treccia è ovvio naturale che le lavorerete semplicemente a diritto ovvio è sulla finta treccia sto parlando per cui niente andiamo avanti per cui niente scollo ma uno scalfo e siamo alla riga 55 sulla riga rovescio lavoriamo le maglie come si presentano ci rivediamo finite queste due righe siamo al ferro 57 in questo caso inseriremo una diminuzione ovviamente dopo la prima maglia per lo scollo e un'altra diminuzione all'interno dell'ultima maglia per lo scalfo ovviamente ripetiamo che sulla parte destra ragazzi ormai lo sapete tranquillamente si lavorano due insieme e per la parte sinistra andiamo avanti ovviamente a diminuire per lo scalfo sempre realizzando un accavalato semplice oramai è inutile che ve lo faccio vedere lo sapete fare benissimo per cui sul ferro rovescio nessuna variazione di conseguenza lavorerete le maglie come si presentano e ovviamente ci troviamo per il ferro 59 ferro 59 inseriremo nuovamente una diminuzione per lo scalfo e nessuna per lo scollo come per il ferro 61 solo una diminuzione per lo scalfo e nessuna per lo scollo di conseguenza ci vediamo al ferro 62 ovviamente le maglie sulla parte retro le lavorerete sempre come si presentano e ci vediamo al ferro 63 e da lì ci saranno altre variazioni siamo arrivati al ferro 63 le nostre diminuzioni per lo scalfo sono terminate e di conseguenza dal lato sinistro ovviamente andremo a lavorare le maglie come si presentano mentre per lo scollo andremo a diminuire all'interno della prima maglia ora su tutti i ferri dispari per cui su tutti i ferri dove lavoriamo il davanti della nostra del nostro blazer per cui dal ferro 63 fino attenzione al ferro 91 per cui tutti i ferri dispari noi andiamo a diminuire mentre sul retro del nostro blazer lavoriamo le maglie come si presentano ci vediamo al ferro 93 dove dovremo ovviamente preparare anche la nostra spalla per cui andiamo avanti tranquillamente ricordatevi di lavorare la diminuzione dopo la prima maglia per cui all'interno della prima maglia e ci rivediamo al ferro 93 per lavorare insieme siamo arrivati al ferro 93 ora sospendiamo le nostre diminuzioni per lo scollo per cui lavoreremo questa riga senza variazioni e quando siamo sul retro del nostro lavoro andremo ad intrecciare le prime nove maglie questo per il ferro 94 lo stesso vale per il 95 sul davanti nessuna variazione sul retro diminuiremo intreccieremo 9 maglie ferro numero 97 lavoreremo sul diritto e sul rovescio intreccieremo tutte le maglie ora io lavorerò il primo dei primi tre intrecci per cui 93 senza variazioni siamo al 94 e lavoriamo insieme per questa prima riga senza variazioni ci vediamo sul retro siamo sul retro del nostro lavoro ed ora vado ad intrecciare le prime nove maglie per la spalla per cui vediamolo ancora una volta insieme la prima maglia la passo sul ferro senza lavorarla seconda questo qui sul mio lavoro è un rovescio perciò vado lavorarlo a lavorarlo a rovescio ed intreccio praticamente a cavallo la prima maglia sempre a rovescio a cavallo la maglia alla successiva e sono due continuiamo così la terza sarà a diritto e faccio il medesimo processo arrivati a nove proseguiremo sulle restanti maglie secondo la lavorazione vi ricordo che siamo sul dietro perché sul davanti destro per formare la spalla intreccieremo sul dietro per cui ci vediamo al prossimo ferro ok siamo sul davanti ho intrecciato le prime nove maglie sul dietro ed ora proseguo senza variazioni fino ad arrivare alla riga rovescio al ferro rovescio dove intreccerò nuovamente 9 maglie terminiamo così e poi ci vediamo per l'ultimo intreccio una piccola aggiunta allo step di prima visto che dobbiamo intrecciare sul retro a questo punto visto che dovremo formare la treccia e poi ci sarebbero problemi nell'intrecciare perché mancherebbero le maglie ovviamente quelle che andiamo a cavallare in questo ferro sospendete completamente la lavorazione ok di modo che non ci saranno poi problemi a ovviamente intrecciare tutte le maglie perciò sospendete la lavorazione sugli ultimi nove punti sulle ultime nove maglie non fate la lavorazione e poi intreccieremo sul ferro rovescio ora siamo sulle ultime nove maglie per cui sul davanti andremo a lavorare le maglie come si presentano sul retro intreccieremo le ultime nove maglie a dopo ecco abbiamo intrecciato tutte le nostre maglie adesso andremo a staccare il nostro filo ne lasciamo un po così abbiamo la possibilità di cucire poi il davanti col dietro sfiliamo la nostra asola e il davanti destro è terminato ora per il davanti sinistro farete come per il destro ovviamente tranne che nella culisse eviterete ovviamente di fare gli occhielli e anziché diminuire all'inizio dovrete diminuire alla fine realizzando un accavallato per le diminuzioni per cui è molto semplice lavorate a specchio e guardate è veramente elementare neanche vi do lo lavoriamo insieme è semplicemente da lavorare a specchio per cui avete tutte le righe tutte le diminuzioni se mi avete dato retta e avete segnato altrimenti rimandate il video e ovviamente ciò che abbiamo fatto per il davanti destro lo faremo anche per il sinistro ora il prossimo step che andremo a fare sarà quello delle rifiniture cosa faremo allora per essere un pochino più agevole io nel registrare questo tutorial lavorerò semplicemente il dietro con una metà così che si riesca effettivamente a notare ciò che andremo a lavorare e soprattutto a lavorarlo insieme in questo caso non userò sempre il nero ma inserirò un colore in contrasto così che da riuscire a capire e vedere poi dove andremo soprattutto a raccogliere i punti per questa parte dove ho messo il mio marker del davanti dove andremo a creare il bordo poi per quanto riguarda lo scollo che abbiamo realizzato finora andremo semplicemente a lavorarlo in maniera staccata per poi cucirlo ovviamente dal mio marker fino a dove inserirò il collo vale la stessa cosa per il collo per cui adesso io cucio le spalle ok al dietro e anche il fianco così che non avremo problemi se il lavoro ha problemi tra virgolette ovviamente a stare insieme così è più facile lavoro più compatto e soprattutto a voi viene un occhio diciamo così no vedete a occhio nudo come si presenta il lavoro per cui vado a cucire e ci vediamo dopo ecco una sola piccola cosa per cucire mi raccomando fate aderire le spalle ovviamente ognuna sulla diminuzione alla quale corrisponde per cui abbiamo lavorato tre diminuzioni tre intrecci voi andrete a cucire un intreccio alla volta per cui uno due e tre ok per cui cucite tranquillamente così le spalle e poi il fianco a dopo come vedete ho cucito il nostro fianco e le nostre spalle ed ora dovremo andare a riprendere i punti dal davanti fino a dove abbiamo messo il marker per cui prima di dove abbiamo cominciato a diminuire per il nostro scollo il perché io non lavoro la prima maglia è perché semplicemente si forma questo nodino come vedete all'inizio del nostro ferro dove mi è semplice andare a riprendere i nostri punti per cui io con il ferro che andiamo ad usare che sarà il tre per cui quello più piccolo vado a raccogliere questi punti all'inizio vedete praticamente è l'inizio della riga dove io non ho lavorato la maglia per cui entro e faccio passare sul ferro questo punto non lavorato all'inizio per cui mi sarà molto semplice andare a recuperare tutti i punti che mi servono per realizzare il mio bordino a legaccio per cui carico sul ferro piano piano tutti i punti fino a raggiungere il marker che ho messo qui all'inizio ora piano piano vediamo ancora un paio di punti e poi siete completamente autonomi per raccoglierle come vedete qui c'è il nodino io entro con la punta del ferro alzo il punto che si viene a formare e lo passo sul mio ferro mi raccomando questo procedimento cioè perlomeno quello che uso io i punti li vado a raccogliere sul davanti per poi realizzare il primo ferro sul dietro dove dovrò inserire anche degli aumenti ma questo lo vediamo insieme una volta che abbiamo raccolto i punti una volta raccolti tutti i nostri punti volteremo il lavoro e andiamo a lavorare a legaccio per cui la prima riga la faremo a diritto ora io utilizzerò della viscosa bianca ok così sarà possibile riuscire a vedere per voi come andremo a realizzare appunto gli aumenti e i relativi punti su questo bordo allora ferro a portata di mano e la prima maglia la lavoreremo a diritto perciò io entro carico il filo ed estraggo lasciate sempre un po di bordo così poi la faremo sparire nelle maglie ovviamente in questo caso visto che nera sarà più semplice poi durante questa riga lavoreremo una maglia diritta e una maglia con l'aumento allora cosa faremo per aumentare io vado a prendere sempre la testa del nodino che vedo qui sotto vedete che se io entro con il ferro vediamo se riesco a zoomare leggermente ok se io entro con il ferro sollevo questo questo nodino vado a caricarlo sul ferro di sinistra e io in sostanza ho una maglia in più da dover lavorare di conseguenza vado semplicemente a lavorarla a diritto per cui filo sul nostro ferro ed estraggo la maglia che ci sarà dopo che quella che abbiamo raccolto in precedenza vado a lavorarla a diritto ritorto e io ho aumentato una maglia l'altro punto che mi trovo raccolto lo lavorerò semplicemente a diritto ora dovrò fare l'aumento e andrò semplicemente a lavorare come prima per cui con il ferro di destra raccolgo il punto e lo carico sul ferro di sinistra ora lo lavoro a diritto e quello già raccolto lo lavoro a diritto crociato il successivo lo lavoro semplicemente a diritto perché un aumento sì e uno no semplicemente perché se aumentassi tutti i punti andrei a creare un movimento che molleggerebbe un po' troppo di conseguenza visto che già il legaccio tende un attimino a rilassarsi chiamiamo così anche se non è il termine tecnico cerchiamo di stringere il nostro lavoro dando comunque una risolutezza perfetta per cui andiamo a vedere un'altra volta come dovrò lavorare entro carico metto sul ferro lavoro a diritto e successivo lo lavoro a diritto crociato per cui lo prendo da sotto nuovamente questo lo lavoriamo a diritto ed ora andiamo ad aumentare perciò prendo il punto sotto lo riporto sul ferro lo lavoro a diritto e successivo anziché prenderlo da davanti vado a prenderlo da dietro e proseguo così per tutto il nostro ferro dunque una volta terminati ci rivediamo e vediamo poi come proseguire terminerò gli ultimi due punti ok questo era l'aumento questo è l'ultimo punto in teoria qui dovrei andare ad aumentare ma lavoro semplicemente una maglia a diritto per cui termino la mia riga ed ora andiamo a lavorare a legaccio per un totale di cinque righe alla sesta intreccieremo tutte le maglie per cui io adesso proseguo nuovamente con le altre quattro che mi rimangono da lavorare e poi ci ritroviamo per intrecciare le maglie insieme realizzate le cinque righe e ora andremo ad intrecciare tutte le maglie per cui come di consueto la prima maglia non la lavoro la faccio scivolare sul ferro di destra prosegue sempre con un diritto ed ora a cavallo la maglia la prima sulla seconda sempre a diritto prendo la prima e la cavallo sulla seconda sempre a diritto ed ora andrò ad esaurire tutte le maglie ci vediamo alla fine per vedere il risultato finiamo il nostro bordo lavorando sempre una maglia legaccio a cavallo la maglia ed ora ultima maglia legaccio a cavallo e taglio il mio filo lasciate sempre un pochino in più così se c'è qualcosa da cucire o da far passare non avete problemi estraggo l'asola e il nostro bordo è terminato ora io l'ho fatto in bianco semplicemente per riuscire a farvi vedere certo se è fatto indubbiamente colore su colore questa prima riga è ovvio naturale che non si vedrà bene realizzate lo stesso bordo dall'altra parte ok sull'alto davanti nella sempre nell'identico modo ed ora andiamo a realizzare il nostro river il river che noi andremo a fare è staccato e andrà cucito poi in seguito una volta che è realizzato è sempre fatto tutto a legaccio non ha grosse difficoltà se non quella di aumentare mentre lavoriamo perché dobbiamo ovviamente aprire la larghezza ora montiamo quattro maglie e ci rivediamo per vedere come iniziare il nostro lavoro bene montate le quattro maglie lavoreremo due ferri a legaccio dunque il primo lo passo sul mio ferro di destra senza lavorarlo proseguo a legaccio sulle altre tre una due e tre secondo ferro lavoro la stessa maniera per cui con le maglie come si presentano ovviamente faccio scivolare la prima maglia e lavoro a legaccio ora dal terzo ferro dobbiamo cominciare ad inserire gli aumenti e gli inseriremo esattamente dopo i primi due punti per cui vado a lavorare la prima non la lavoro e la faccio passare sul destro proseguo con un diritto ed ora vado a eseguire l'aumento raccolgo il punto del giro precedente con il ferro di sinistra entro e lo faccio passare sul ferro sempre di sinistra lo lavoro a diritto e il punto successivo a diritto crociato e io ho aumentato il mio primo punto termino la mia riga con una maglia legaccio ora dovremo andare a ripetere questi aumenti ogni tre ferri per esattamente 25 volte per cui a questo punto andiamo avanti in autonomia visto che abbiamo capito oramai come si fa ad aumentare internamente ricordatevi che dovete lavorare l'aumento dopo i primi due punti lo rivediamo insieme ancora una volta dopodiché siete abbastanza abili da poter lavorare in autonomia ovvio che i revè vanno fatti due volte per il davanti destro davanti sinistro ovviamente noi stiamo facendo il destro per il sinistro lavorerete a specchio per cui adesso abbiamo fatto il terzo ferro andiamo avanti ancora insieme siamo al quarto e lavoro senza problemi per cui lavoro con le maglie che ho sui ferri ferro 5 a questo punto prendetevi carta e penna e segnatevi poi tutti i ferri che andrete a fare per non avere magari problemi o lasciate il lavoro un attimo non vi ricordate e quant'altro è molto più semplice così ferro sesto ed ora siamo al settimo e dobbiamo inserire il nostro aumento il nostro secondo aumento per cui lavoro faccio passare ovviamente il primo punto sul ferro di destra lavoro un diritto ed ora vado a inserire il nostro aumento per cui raccolgo il punto sotto il ferro di sinistra entra nel punto così e lo fa passare sul ferro di sinistra ritorno lo lavoro e questo è l'aumento ed ora lavoro un diritto crociato sull'altro punto e vado avanti così per cui ogni tre ferri io aumento per cui ci rivediamo esattamente al ferro 99 dove eseguiremo il 25esimo aumento e poi vediamo come procedere come vedete il nostro rever si sta allargando io sono arrivata alla riga 99 dove inserirò il 25esimo aumento poi dalla riga successiva dobbiamo aumentare ogni 5 righe per esattamente 2 volte per cui prendete nota eventualmente del numero della riga io sono arrivata alla riga 99 e inserisco il 25esimo poi alla riga 105 il 26 e alla riga 111 il 27esimo aumento ci vendiamo alla riga 111 per poi vedere come proseguire a dopo siamo arrivati al 111 ferro dove andrò ad inserire l'ultimo aumento dopo ovviamente i primi due punti come abbiamo visto in precedenza poi proseguirò per altri 3 ferri e al ferro 115 io intreccio tutte le maglie rivediamo poi il risultato insieme una volta finito ed ovviamente dovremo realizzare un altro revers sempre ovviamente della stessa misura ma lavorato a specchio per cui se qui ho iniziato ad aumentare dopo i primi due punti dovrò lavorare l'altro a specchio ed aumentare entro gli ultimi due punti è semplicissimo va semplicemente lavorato a specchio ora termino questo ci rivediamo per il risultato e poi il prossimo step sarà quello di realizzare il collo ed ecco il nostro river finito mi raccomando quando chiudete lasciate un po' di filo un abbondante pezzo di filo per andare a cucire questa parte per cui il lato dritto non il lato obliquo cuciremo il lato dritto al river del nostro blazer per cui realizziamone un altro e poi lo mettiamo da parte che successivamente lo cuciremo ed ora passiamo al nostro collo anche il collo è lavorato a metà per cui la prima cosa che faremo lavoreremo una metà insieme poi la successiva la dovete lavorare a specchio nell'identica nella maniera opposta ovviamente se lavoro a specchio di quella che andiamo a lavorare insieme per cui avviamo 16 maglie sui nostri ferri sempre numero 3 e lavoriamo due ferri a legaccio sulle nostre 16 maglie per cui io avvio i ferri avvio le maglie lavoro i due ferri poi ci rivediamo per inserire gli aumenti ecco qui lavorati i nostri due ferri ora dovremo andare ad inserire gli aumenti per cui lavoreremo i primi due perciò il primo lo lavoro lo passo scusate senza lavorarlo e poi un altro diritto andremo ad aumentare i punti appunto all'interno dei due punti per cui lavoro i due punti e inserisco l'aumento come abbiamo già visto estraggo il punto dal ferro inferiore lo passo sulla sinistra ci lavoro un diritto e la successiva è un diritto ritorto ed ora proseguo così per tutta la riga dunque aumenteremo i punti solo sul lato destro e nei ferri dispari fino al ferro 29 per cui a questo punto segnatevi su un pezzetto di carta su un foglio di carta che ovviamente cominceremo ad inserire gli aumenti dal terzo ferro e proseguiremo fino al ferro 29 attenzione gli aumenti solo sui ferri dispari e all'interno delle due maglie per cui lavoreremo le due maglie a diritto e inseriremo l'aumento adesso andiamo avanti procediamo tranquillamente arriviamo fino al ferro 29 che lavoreremo insieme e poi vedremo come proseguire siamo arrivati al ferro 29 e inseriremo l'ultimo aumento lavoriamo insieme la prima maglia la passo sull'uncinetto senza lavorarla un diritto ora inserisco l'aumento prendo il punto nel del ferro sottostante lo passo sul mio ferro di sinistra lavoro un diritto lavoro un diritto crociato e proseguo a legaccio per tutto il ferro ora dal prossimo ferro che è esattamente il numero 30 dovremo lavorare fino al ferro 36 compreso senza nessuna variazione per cui lavoro con i punti che io vi trovo sui ferri allora ci rivediamo al ferro 36 perché poi dal ferro 37 cambiamo la lavorazione per cui anziché aumentare andremo a diminuire ma lo vedremo insieme vi aspetto al ferro 36 per lavorare insieme siamo al ferro 37 ed ora dovremo inserire una diminuzione dopo i primi due punti perciò lavoriamo insieme dunque i primi due punti lo sapete il primo punto lo faccio scivolare sul ferro di destra e il secondo lo lavoro a diritto ora per realizzare appunto la diminuzione faremo un accavallato semplice perciò il primo punto lo porto sul ferro di destra e il successivo lo lavoro a diritto ora prendo il punto non lavorato e lo a cavallo a successivo e poi proseguo su tutti i punti sempre a legaccio dunque inseriremo altre due diminuzioni esattamente al ferro 47 e al ferro 59 per cui dal ferro 60 lavoreremo le maglie come si presentano non inseriremo più nessuna variazione e chiuderemo tutte le nostre maglie al ferro numero 90 per cui ci vediamo al ferro numero 89 eseguito e poi lavoreremo insieme il ferro numero 90 allora ho lavorato fino al ferro 89 ed ora al 90 dovremo intrecciare tutte le maglie questa è la metà del collo dovete ovviamente lavorarne un'altra a specchio perché lo dividiamo semplicemente perché ci sarà più comodo poi cucirlo al dietro e adattarla alla forma del nostro blazer per cui ora adesso io chiudo intreccio tutte le maglie e poi con questa metà ovviamente mettiamo degli spilli sulla metà del nostro blazer e vediamo come risulta il lavoro allora il nostro collo andremo a posizionarlo sulla metà del nostro dietro ovviamente prendiamo la misura e da qui facciamo aderire la parte dove c'è l'intreccio delle nostre maglie poi qui si tratterà semplicemente di andare a cucirlo come ovviamente cercando di cucirlo da questo lato per cui sul diritto del dietro e poi anche del davanti per fare in modo che il nostro collo poi aderisca allora adesso io ci metto due spilli così riusciamo a capire anche dove andare poi a posizionare il river allora fate conto poi che questa sia la parte dove il nostro river andrà ad appoggiarsi adesso lo cuciamo fino al nostro alle nostre maglie aumentate e lo posizioniamo così fino circa a un terzo della misura del nostro scollo ora andiamo a prendere il nostro river la parte più corta andrà a combaciare con il bordo per cui lo cuciamo alla rovescia così visto che poi il nostro bordo verrà ripiegato ora mettiamo un altro spillo così riusciamo a capire ed ora tendendo sia il nostro lavoro che il nostro river andiamo a cucirlo dritto con dritto così metto un altro spillo così si vede meglio andremo a cucirlo semplicemente fino lungo tutta la lunghezza del nostro scollo e poi andremo sempre a chiudere a cucire la parte del river fino al collo dove si apre e si allunga allora metto un altro spillo così a me spiace perché con la camera non riesco a farvi vedere granché però adesso lo punto almeno così se voi non siete sicure date prima un'imbastita veloce per poi vedere il risultato allora io adesso rivolto il nostro river come vedete prendo il collo ve lo mostro in sostanza il nostro river deve avere questa apertura si dovrà cucire lungo tutto lo scollo fino ad arrivare al bordo dove ovviamente andrà cucito calcolate che poi il bordo con una piccola colpo di vapore andrà a posto e si piegherà per cui una volta finita tutta questa storia di cucito che poi così sembra molto complessa ma in realtà è molto semplice dovremo solo cucire ripeto il collo fa sparire tutti i nostri fili e ovviamente fare nell'altro senso la stessa cosa poi per quanto riguarda il discorso dell'apertura se volete potete anche lasciarla così a taglio vivo altrimenti con l'uncinetto numero 3 che vi avevo segnalato all'inizio faremo semplicemente un giro di punto basso e se volete anche un punto gambero io ho semplicemente lavorato un giro di punto basso almeno per questo progetto in altri progetti ho lasciato proprio pulita il nostro incavo manica bene anche questo laboriosissimo progetto è terminato io vi auguro un buon lavoro con i prodotti 3 sfere all'ultimo vi lascio la foto del capo indossato dalla modella così potrete ovviamente vederlo ah una cosa ovviamente i bottoni non dimenticatevi cucite anche i bottoni perché altrimenti abbiamo fatto le asole per nulla per cui ripeto buon lavoro con i prodotti 3 sfere e al prossimo progetto grazie di avervi tenuto compagnia ciao da Raffaella grazie a tutti grazie a tutti